Non lo so, perché ogni tanto siamo andati a dormire qualcosa, poi siamo andati a dormire, logicamente. E questa bimba quanti anni ha? Non lo so. Piccolina? 3-4 anni, forse. 3-4 anni. Figlia unica? Sì, 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 ma sono giovani, avranno 30 anni, neanche tutti e due, no? Ma è stato suo marito a fare questo? No, non so niente. No, siamo matti, quelli lì sono due coppie sereni, sempre allegri. No, no, io ho sentito che è stato uno stocco, però io non so niente. Ma sempre una ragazza molto gentile, io la conosco da tanti anni. Però sai, è così, cosa vuoi fare? Un disastro, non può succedere una cosa più peggio. Un disastro, non può succedere una cosa più peggio.